La scuola è un settore su cui investire o un settore da cui continuare a risparmiare? Di contratti al tempo determinato della scuola, obbligo da parte dell'amministrazione scolastica e di assunzione al tempo determinato. Questo significa finanziamento e aumento della qualità. Le cose sulle quali intendiamo lavorare sono la questione dei BES, che è un ulteriore elemento di taglio dei docenti ed un ulteriore elemento di impoverimento dell'offerta che viene dato agli studenti, soprattutto quelli più svantaggiati. E adesso quei BES mettono la ciliegina sulla torta, col fatto che ci prendono anche in giro, perché alla fine sembra che siano i docenti che non vogliono poi migliorare la scuola, perché gli si dà l'opportunità. La prosecuzione dei tagli agli organici, che proseguono anche ovviamente attraverso la diminuzione dei pensionamenti. E la ministra ha detto chiaramente che non ci saranno più gli scatti automatici, ma ci saranno gli scatti legati a merito. E questo si deve ovviamente a aumento del orario, perché chi lavora, chi farà lo straordinario, non pagato, riconosciuto come straordinario, avrà lo scatto e gli altri niente. E abbiamo poi il tema grosso che è stato posto dal referendum di Bologna del finanziamento delle scuole private. Mi riaggancio a Romanzo. Cominciamo a vedere, territorio per territorio, quali sono gli elementi di privatizzazione concreta che stanno emergendo. Abbiamo avuto chiaro il fatto che tutti questi provvedimenti hanno un elemento comune di fondo, ovvero sia il fatto che prosegue la logica dei tagli della legge 133, che nessuno dei ministri successivi ha veramente invertito. Quindi la prima richiesta di fondo è proprio questa, che ci sia un'inversione di tendenza netta rispetto a quella legge che vedeva nella scuola un settore da cui risparmiare, anzi che un settore su cui investire. E noi chiediamo un investimento perché ci siano le assunzioni dei precari e perché tutti quei provvedimenti che ho descritto insieme agli altri che abbiamo descritto in questi anni siano ricacciati indietro. Io direi che potremmo ragionare su questi punti, valutare quali sono le possibili iniziative sugli organici da fare entro giugno e preparare un lavoro per settembre. Grazie a tutti.